Forma dolce, la formazione come strategia d'impresa, un seminario rivolto alle piccole e medie imprese locali con lo scopo di formare il personale offrendo prodotti di qualità e aumentando la competitività sul mercato convinti che la ricostruzione passi anche per la ricostruzione delle nostre tipicità e delle aziende locali. Con questo spirito Ecipa Bruzzo, Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato e CNA hanno organizzato un corso di formazione riservato a dipendenti di aziende locali con maestri pasticceri all'interno di aziende del posto, un percorso completamente gratuito. Per noi è semplicemente fare il nostro lavoro che viene arricchito dal fatto che lo veniamo a fare qui all'Aquila nel senso che quando si parla di ripresa dell'Aquila, quando si parla di ricostruzione si parla anche di una condizione mentale che aiuti realmente a questa ricostruzione. Noi parliamo di formazione e di conseguenza penso che potremo dare sicuramente un ottimo aiuto. Sicuramente avremmo bisogno di un sostegno economico anche diverso. È vero anche, va detto con l'onestà intellettuale che credo debba caratterizzare queste riflessioni, che in altri momenti ci sono stati dei fondi europei che a volte non sempre sono andati a buon fine e quindi si tratterà anche comunque di reimpostare culturalmente un avvicinamento alla formazione di cui c'è estrema necessità. Questi territori, come il mio di provenienza, io sono toscano, hanno bisogno di specificità. Dove la specificità significa saper fare bene le cose. La regione anche l'Aquila, soprattutto dopo il sisma, va reimpostata basando tutto sul concetto di specificità che vuol dire saper fare bene le cose. Le aziende in passato non hanno investito sulla formazione, invece occorre farlo per non perdere anche a livello italiano fette di mercato. A chiudere il seminario i dolci realizzati dai corsisti stessi, durante questa esperienza definita da tutti molto utile da ripetere. Grazie. Grazie. Grazie.